Dentro le viscere della città c'è un'importante agenzia di servizi segreti formata da chiappafantasmi professionisti che ci proteggono dagli spiriti maligni. Sto scendendo in cantina? Alcuni di questi fantasmi sono davvero terrificanti e altri non così tanto. Com'è che si dice in queste situazioni? Sembra più un FMS. Un FM che? Un fantasma mediamente spaventoso. Questo ti sembra mediamente? Fai davvero tanta paura, ok? Che cosa ci fate qui? Abbiamo pensato che ti servisse il nostro aiuto. Lo stia pronto per il decollo? Sì. Questo è il quartier generale? È top secret, come Hogwarts. Da qualche parte in città si annida qualcosa di molto potente. È grande, brutto, enorme. Ha congelato tutto. Abbiamo un lavoro da fare. Posso venire? Ti prego. Non esiste cosa mocioloso. Ad Halloween arrivano. C'è il migliore amico che abbia mai avuto. Siamo una squadra. Tutti per uno e uno per... Lo sai come finisce? Tu hai mai paura? No. Cuoco! A mai più rivederci. Faccia di ghiaccio. Puoi farlo ripartire da capo? Io adoro i film di paura. Ghost Hunters. Gli acchiappafantasmi. Dal 29 ottobre al cinema.